Guardiamo, da Bolognesi, eh sì, vediamo i Bolognesi al bar in Cerettino. Eh sì, strada. E guarda che tutti bevono, chiacchierano, sì, tutti fanno chiacchiere. Amore, mi sembrano tutti i bar quasi pieni. Eh sì. Ma te non sembra così? Non sembra. Andiamo un po' fuori. Eh, guarda che questa bar mi piace. Che interessante palazzino. Storico. Storico. Avanti. Avanti. Amore. Allora, this is a street. There are many, many shops. Storico Street, ma vedi, non troppo pieno. Oggi non troppo pieno. Pieno di cosa? Gente. Vedi come è mezzo vuoto. Da che certo, a che ora sono? What is time? Tak. Sei qui? Eh sì, la verità. È troppo pieno. Eh, la verità, la verità. Allora, cosa ce l'abbiamo? No. Qui c'è Fluccio di Yamamei? Mi sembra. Non mi ricordo. Eh sì, Yamamei. Allora. Sì, ma guarda. Sotto scritto ristorante. Sì, sì, c'è ancora scritto ristorante. Perché qui prima era ristorante. Sì. Ma ora c'è il negozino. Il ristorante dietro. Eh sì. Se tu vuoi far vedere come è il ristorante uno dei più famosi di Bologna. E' una anziana. Eh sì. Tipico Molonese. Let's go. Tipico ristorante. Tarrante. 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 Questa qui? Sì. Tarrante. 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 Eh sì. Forse metà gente al mare. Che ne è benissimo. Forse metà gente al mare. È un po', un po' di gente, sì, sarà al mare. Sì, perché prossima week? Sì. Credi che, per esempio, altri dettagli chiudono? Kimke. Non so, forse loro fanno le situazioni, non so. Sembra loro hanno finito qui, l'independenza. Ma no, non credo. Ah, io vorrei dire che settimana prossima sarà più peggio. Perché? È sempre... Rainy. Eh? Rain, rain. Rain, ah sì. Dicono così. Unico due giorni. Solo questi ultimi. Mmh, dai facciamo vedere questo palazzino. Alberto. Oh, non shields. An chakraaka. I dove scagates sul85. Come è! Ah, sì! Sì. Mi sarebbe... Non… Quanta. Allora Questa è? Allora Allora So Are we ready? Allora We are ready Allora Allora, it is true, it is not like prima. No, non è più come prima. No, no, eh no. Perché? I don't know. Perché ora si sente più anziana o paurosa? Paurora, si, si, loro ce l'hanno. E? E? Sei? No, anche noi tutti saranno in casa, saranno al mare, un pochino con l'oglina. Eh, si, si. Poi, sei per ogni sottotitità. Allora. In casa l'unico. Che vuoi tuo gelato? A destra. Cosa la gente fa? Camminano, camminano. Allora, se tu vuoi, girate a destra. A destra, va bene, andiamo. Andiamo a destra. Basta, paralacce, basta. Palazzo Pala. Eh, guarda che bello! Grazie a tutti.